Si vai! Signore e signori benvenuti, siamo qui per presentare un nuovo prodotto, materasso di nuova generazione, più grande e più alto, a pensate 15 metri per 19, una novità nel campo della nuova... Non so che cosa, guardate le nostre ragazze come fanno vedere il materasso nuovo, pensate sfoderabile, niente più morie che vi tirerà le coperte, perché ci sarà una coperta ancora più grande, di spugna, d'inverno, ah sì, doppio rivestimento, caldo d'inverno e fresco d'estate, Pensate, niente più coperte termiche, basta con le coperte che consumano corrente, da oggi in poi potrete dormire sani tranquilli e pensate che chi dorme rilassato si riposa più rilassato la mattina Come si riposa più rilassato? Quando mi ero comprato pareti?